Sì, siamo passati dall'analogico al digitale. Solo qui? No, no, ci sono molte differenze. È completamente differente, anche se poi il succo rimane uguale, ma il modo di applicarlo anche durante il corso stesso è diverso. Ti rende più partecipe, partecipano tutti contemporaneamente e vedi immediatamente i risultati che stai ottenendo. E sai, tanti mi dicono, oh il digitale, tu che l'hai fatto sia dal vivo che in digitale? Che dici? No, no, io sono, se viene fatto bene come lo state facendo voi, si può seguire molto bene il corso in digitale, anzi, agevola molto. Quando l'ho fatto io, dovevo stare in macchina, venire su, poi tornare a casa ore tardi, il giorno dopo il lavoro e così via. Invece così lo puoi fare molto, è molto più accessibile. Bene.